Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo e andremo a vedere oggi Primes Il gioco non so di preciso come funziona ma so che è un file BAT per avviarlo Ah ma questo è Prince of Persia? Mi pare, mi pare l'inizio che era Prince of Persia, appunto Prince of Persia Vediamo Ok Vabbè sentiamo di sotto Cioè Da notare com'è il personaggio, cioè è molto più elastico Invece una volta non erano così, cioè erano delle animazioni semplice Vediamo Com'è che si fa? Aiuto Come combatto? Hello? Aiuto? Come si combatte? Vabbè vai pure di là, tanto non... Ah ok Non si va a tagliare sulla porta Nooo Perfetto Credo che mi sono fatto abbastanza male Però si è aperto, non so più Ok Vediamo Vediamo Vediamo, vediamo, continuiamo Oh Un bel Sta laggando Sta facendo tutto il tutto Ok No No, non è così. vabbè ci vediamo a un prossimo episodio ciao ragazzi